Sono Stefania Bellucci della LR Immobiliare di Roma in Viale Somalia numero 6. Oggi siamo qui a Roma in Via dei Colli Portuensi. Sono a proporvi un bellissimo appartamento nella zona Via dei Colli Portuensi, esattamente in Via Tornielli. Abbiamo un appartamento di un bellissimo stabile in cortina, quattro piani in totale, questo è un secondo piano. Si sviluppa su 129 metri quadrati, l'appartamento ha una pianta regolare. Ha un grande disimpegno dove disimpegna sia la zona giorno sia la zona notte. Questo grande salone con angolo cottura. Ci sono poi due grandi finestre, precisamente una grande finestra e una porta finestra che dà accesso al balcone. Due camere matrimoniali, grandi, di cui una con bagno. La prima volta è stata costruita. Ci sono postre e le prezioni sono fissono inizialmente. L'appartamento si è ricordato. Ci sono momenti inizialmente. Ci sono raste. Cosa c'è una 소리a? Ci sono andati. Ci sono tranzate. Ci sono raste. Ci sono pranzate. Ci sono raste. Abbiamo poi un secondo bagno. Ed una cameretta. L'appartamento è soleggiato, siamo in una zona servita con tanti servizi, una zona commerciale, una bellissima zona ricca anche di verde e comunicante con tutto. Praticamente ci sono autobus per arrivare al centro, ci sono negozi in ogni dove. Che altro dire? Non vi resta che venirlo a vedere. Ci trovate innanzitutto in Viale Somalia numero 6 e ci potete seguire su tutti i social e ci trovate sul nostro sito LR Immobiliare Roma. LR Immobiliare, la tua casa in buone mani.